Ok, vai, mettiamo la missione Eccolo qua, Invasion Partito No, aspetta, il sergente è lì sopra Qua sta scendendo in basso e stanno fuggendo tutti Immagino che noi dovremmo l'ordine di arrivare a là Allora, vai, se l'ho messo il sergente Questo nano nudo che corre Sono fuggiti tutti, eh, là c'è un nano, un nano nudo Sare fuggito, shocker Sare l'ha sbagliato a fuggire, c'è, c'è infilato, c'è infilato, c'è adesso che c'era dietro Oh, arrivano altri, vai, vai Ma la bomba arrivano in massa, Riona Invece c'è il figliolo, dai Allora, devo, che l'ho acostumato No, sì, però, sì, da che sarà Che non rompesse Vecchia Giava nessuno Cosa Che non rompe Cosa Poi, è quanto si trattano, c'è instruzione Cosa 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 8 minuti Ma arrivano anche da? Oh, hai detto che arrivano da tutti i lati Io non so sinceramente quali c'è da fidare Vabbè, vabbè, ti compare che cosa Gli frisse in baldeco, vedi là c'è lì c'è lì un altro Attira un railac Vediamo Vabbè, questo coso qua Un railac Uno schifo Sì, una specie di timing di Verna Trano Ah, c'è una spia dell'orda Vado a prenderla No, l'orda opportunist Ah, ok Vado a prenderla Uccidi il Grimshot qua che c'è Ok, ho preso Vabbè, ma tanto poi c'è I nostri fidi I nostri fidi pageti Compagnieri di Stormwind Qualche Sì Hai chiamato anche i miei Usato l'abilità della guardia Così tanto per fare più Fa molto di più Ecco l'opportunista Spare in giro schifo Olè 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 Questa cosa è bellissima Oh, ci abbiamo uno qua Un Vanguard Black Monster Vado a dare una mano a Theobald Davanti Non si Ma forgi sotto attacco No 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 Che sembra Tipo Libok Legend Ma vorrei Sotto attacco Thunderlord Da Questa è in un'immagine 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 sorripilante minchia che burli ragazzi che burli che si duc vai attenzione uff questo no è un migliore di ciò un'altra cosa ancora arriva tira giù questo arriva abbassati abbassati fatti vedere qua c'è un opportunista aspetta che se ti spacco cosa credi di fare? devi fare il figo più 20 o lei no soffero sono un veleno mortale basta la forgi sotto attacco per me non ho capito perché mi attaccano la forgi come primo edificio ho la centrale di riciclo vabbè si vede che lì sono lì sono poco simpatici la verità è che quello che la gestisce è un pelato con degli occhiali adesso sono resi conto che non potranno mai non potranno mai essere fichi quanto lui non ci prende neanche lì è tutto in fisi il suo salto andate due minuti di sta roba perché effettivamente ieri la daily era quella di ricordi che si volete ammazzare gli orchi no quella di ieri non l'ho fatta è vero comunque era quella degli orchi quella di nagrand al solito mamma mia mi hai salvato il culo ma proprio presente io l'ho già visto molto si praticamente è una cosa che ti spawna random e ed è specifico capita che sia specifica della daily che fai quindi quindi tipo se veniva fuori oggi mi saltavano fuori gli ogre al posto si è una rivalsa praticamente contro contro di te ti da un achievement e una volta che le completi tutte ti da un achievement è buono e praticamente vedi come il punteggio sopra 325 ecco non so bene con che punteggio c'è bronzo, argento e oro e man mano ti cambia il 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 ti cambia che cosa ti trovi nella chest finale si 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 che sono oggetti per i follower e robe simili vai l'opportunista l'opportunista vai 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 no 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 silver buono è buono ah no obgettivi silver quindi siamo la tabrosa vabbè l'argento sono 600 punti sono e forse ci vuole più di ps eh si potrò più da tank non è che combinano più di tanto no ma e più che altro ci ci vorrebbe che ci vorrebbe eh forse ci vorrei un numero due o tre di piense cioè due di piense se bisogna valutare in quanti incredibile questi questi ipogrifi ci hanno venuto pericassassati per pillare la mente e sono riccheibiboli belli tranquilli 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 tiri 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 no più che altro ci vorrebbero cioè se si può fare in tre ehm 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 non lo non lo non si fa con due dps un tank eccolo qua the calm tiri 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 ibel ma vai 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 sopra 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 point ma anche dai riflemen sì 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 la pigiola no forse fatto in tre ti dividi una parte di uno uno all'entrata uno va lì dove c'è la segheria e uno va dove c'è la miniera e così te la dividi bene e riesci a farteli tutti probabilmente così beh amici forse agili scattanti anche beh uso anche l'abilità della Harrison eh c'è un cooldown troppo po' il colpo strike your heart il guardiano diventano finisce ma è che amiciate ho anche perso agro tre bombe ma è che non è il primo figo basta zitto napalm shot devo girare il client in inglese in italiano si chiama tiro di fucile sia il tiro di fucile che il coso così abbiamo fatto un sacco di cose oh lì bomba mille mille argilamenti in un secondo ma che bello fantastico no Luca per un punto non prendiamo l'argile lo 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 ce la poteva essere va bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti